Ciao, sono Piero Fumarola, kinesiologo esperto dell'esercizio fisico di esercizio vita. La sclerosi multipla è una patologia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Questa comporta la perdita di abilità nel compiere azioni quotidiane. I problemi più evidenti che un soggetto affetto da sclerosi multipla si trova ad affrontare sono difficoltà a camminare e debolezza muscolare, situazioni che penalizzano la qualità di vita. Per questo motivo una persona con sclerosi multipla ha dunque estremo bisogno di mantenere il più possibile il proprio corpo attivo. L'attività fisica adattata che proponiamo noi di esercizio vita è il perfetto connubio tra la componente psicologica e quella motoria. Utilizziamo strumentazioni e programmi di esercizio fisico strutturato, basati sulle evidenze scientifiche, per le persone che devono convivere con la sclerosi multipla e che hanno come unico obiettivo quello di rallentare il più possibile la sua inevitabile evoluzione. Il nostro valore aggiunto è l'attenzione che mettiamo nel curare ogni dettaglio del tuo allenamento. È per questo che prima di farti accedere ai nostri percorsi vogliamo conoscere la tua storia, la tua quotidianità e vogliamo esaminare attentamente la documentazione clinica che i tuoi medici ti hanno lasciato. Se vuoi accedere al percorso contattaci tramite mail o chiama direttamente esercizio vita.